Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo alle pagine interne dei quotidiani regionali. Partiamo dal primo piano del centro, gli aiuti all'agricoltura, 3 milioni per le aziende vitivinicole, domande entro il 15 di novembre, imprudente, contributi di 500 mila euro per ditte singole e 700 mila per le associate. Poi la prima neve sul Gran Sasso, temperatura scesa a meno 4 gradi e dunque eccola qui la neve sulla vetta più alta dell'Appennino, il Caput Frigoris, questa è la webcam che lo inquadra. Poi ancora a Chieti la grande festa di chi ama la natura, domani la manifestazione nazionale del WWF alla Villa Comunale e nel Museo dell'Università. Continuiamo sulle pagine di primo piano del centro, Giuliante dice indagate sui conti della tua. Il presidente leghista chiede alla regione una commissione d'inchiesta sulla gestione della società nel periodo di D'Alfonso, esplode il caso trasporti. Ma lunedì scatta il nuovo sciopero dei bus, per i pendolari sarà una giornata nera. Gazebo in tutta la regione, cittadinanza, Fratelli d'Italia abruzzese raccoglie firme contro la legge. Nel taglio basso invece, plastica in mare col direttiva all'attacco, convegno a Giulianova per sensibilizzare anche i pescatori ad un uso sostenibile del materiale. Nella pagina successiva, Abruzzo l'inchiesta, procura dell'Aquila a San Salvo, arrestati due carabinieri. Uno è il comandante della stazione, tra le accuse anche il peculato e il mancato sequestro di banconote contraffatte. L'indagine è portata avanti con scrupolo dai colleghi dell'arma, indagati un avvocato ed altre tre persone. Qui vedete le foto per il comandante di stazione Antonello Carnevale, 55 anni, e per il maresciallo Giuseppe Mancino, arrestato insieme a Carnevale. Un anno fa lo stesso Carnevale era stato premiato, ci ricorda il centro, 7 luglio 2018. Andiamo adesso a vedere la pagina Abruzzo sul centro. Marsiglio, gli inceneritori non sono tabù. Il governatore teme l'emergenza rifiuti come quella di Roma in TV, dice di non escludere la soluzione termovalorizzatori. Nel frattempo Fioretti resta e partecipa alla giunta, ma annuncia le dimissioni della moglie. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sul messaggero. Restiamo alla politica, le tensioni in regione. Fioretti resta, la moglie no, crisi risolta. La Lega ufficializza la richiesta di conferma dell'assessore. Deramo, tra virgolette, assolve il governatore sul caso della nomina. La Longo rinuncia all'incarico nella commissione adozioni, valutazione di opportunità, resto a disposizione del partito. E poi una commissione d'inchiesta sul caso della tua. Questa è la richiesta del presidente di tua, Giulianti, al governatore della regione. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città. Torniamo sui trasporti. Giulianti vuole una commissione d'inchiesta. Il presidente di tua risponde alle critiche sui disservizi e chiede di indagare sulle gestioni precedenti. L'accusa, da quando mi sono insediato, ho ricevuto richieste e suggerimenti che avevano un unico coerente parametro, spendere. Poi la crisi in regione. Deramo chiede la conferma di Fioretti nella giunta Marsilio. Nel taglio basso, Daniela Valenza, nominata commissario dell'ARIC. L'avvocato è stata nominata dal governatore Marsilio durante la giunta di ieri. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo nelle pagine di Pescara. Ricoverato in rianimazione, si schianta con l'auto giovane e grave. A Collecorvino resta incastrato tra le lamiere dopo lo scontro con un furgoncino sul ponte, sul fiume Tavo. È stato operato a Pescara. Poi ancora, bimbo di sei anni investito su Viale Muzzi. Il piccolo, che era con i genitori, è stato ricoverato. Ha riportato fratture alle gambe. Indagano i vigili. Proseguiamo con la cronaca giudiziaria. A caso Pescara Porto, ricorso della Procura contro le assoluzioni. Il responsabile Serpi chiede alla Corte d'Appello dell'Aquila la condanna di D'Alfonso, Milia, Dezio, Ruffini e Di Biase. Pagina successiva. Il sopralluogo in ospedale. Masci, un piano per geriatria affollata. Il sindaco visita il reparto. Trovati letti nei corridoi. È inaccettabile. Disavventura in ascensore. È bloccato per dieci minuti. Prima di andare a vedere il servizio, completiamo questa pagina. Scelta del medico. Rinforzi allo sportello. La regione corre ai ripari dopo la denuncia sulle file. Il caos al distretto Pescara Nord. E poi ospedale. Scivoli e posti riservati ai disabili. L'ASL accoglie le richieste di carrozzine determinate. Ferrante. Finalmente siamo stati ascoltati. Ma torniamo al sopralluogo, alla visita del sindaco di Pescara in ospedale con Paolo Renzetti. Visita del sindaco di Pescara questa mattina nel reparto di geriatria dell'ospedale civile. Santo Spirito. Masci, un reparto che in passato ha avuto anche delle criticità, soprattutto problemi di sovraffollamento. Oggi siete qui proprio per visitare questo reparto e vedere qual è la situazione. Sì, diciamo che le criticità si sono verificate anche negli ultimi giorni, nel periodo estivo. Abbiamo visto scene che in una città civile non dovrebbero esserci. Quindi sono venuto sollecitato dal consigliere Pignoli a verificare qual è la situazione, a parlare con il primario per capire bene come si può intervenire. Perché io l'avevo detto in campagna elettorale che non sarei stato il sindaco chiuso nel palazzo e soprattutto non sarei stato il sindaco che si interessava soltanto dei problemi del comune inteso come palazzo di città, ma che si interessava di tutto quello che riguardava i cittadini di Pescara. E niente di più riguarda i cittadini di Pescara che l'ospedale. Per questo sono qui, oltretutto arrivo in ospedale a vedere le criticità e rimango bloccato dentro l'ascensore. Quindi è chiaro che ci sono situazioni che devono essere registrate, migliorate e io mi auguro che con il nuovo direttore generale ci possa essere quella spinta che i cittadini di Pescara cercano per avere un ospedale all'avanguardia perché i medici sono sicuramente preparati. Ci sono dei reparti ottimi che sono delle eccellenze in Italia e in Europa, però io spero che tutto l'ospedale possa veramente diventare una grande eccellenza partendo dal dia di secondo livello che è indispensabile per far funzionare la sanità non a Pescara ma in Abruzzo. Consigliere Pignoli, oggi la visita, lo aveva detto nei giorni scorsi con il sindaco nel reparto di geriatria dell'ospedale, cosa chiederete al personale medico ed infermieristico? La civiltà, l'essere civile, cioè che quando una persona anziana è malata deve avere il rispetto della civiltà, deve avere il rispetto degli spazi e ovviamente chiediamo anche rispetto per i dipendenti che ci lavorano perché non è possibile che ci sono medici, infermieri che devono sopportare un sovrannumero di persone sempre e costante durante i 365 giorni all'anno. Non è possibile che nel periodo estivo e nei periodi invernali debba uscire sempre nelle locandine del centro del messaggero e dei quotidiani online che del problema praticamente di geriatria. Non è più possibile, la geriatria deve uscire come invece, come un reparto di eccellenza. Restiamo su questa notizia in apertura nella pagina di Pescara del messaggero. Masci processa l'ospedale senza manager. Il centrodestra apre la corsa al dopo Mancini, il sindaco visita il reparto di geriatria e resta, lo avete ascoltato, bloccato in ascensore. Intanto Lorenzo Sospiri attacca sulle code per la scelta del medico di base. Poi ancora sbloccati concorsi di ambiente SPA di Fidei Comuni con altre società. Nel taglio basso una catena di solidarietà per Damian L'Uomo col Bastardino. Andiamo a completare anche le pagine di Pescara sul messaggero. Pescara Porto, la procura fa appello, impugnate le assoluzioni di D'Alfonso Milea e degli altri per i palazzi sul lungomare. I PM Serpi e Mantini sono convinti delle pressioni decisive sul genio civile per variare il parere contrario al progetto. Giocattoli pirata, 400 pezzi sotto sequestro in un negozio cinese da parte delle Fiamme Gialle. Poi le altre notizie, Corso Umberto si può passare in auto e Paolo Sesto, la Fialz insiste, fare chiarezza. Nella pagina successiva, grave un ventenne finito con l'auto contro un camion. La polizia stradale indaga sulle cause dell'incidente, la velocità della Clio condotta dal ragazzo di Colle Corvino. E tra le ipotesi dell'incidente, poi ancora anziano morto in casa, malore in campagna per un altro, le tragedie nella giornata di ieri. Nel taglio basso troviamo 700 piante di droga distrutte a Colle Corvino con un'operazione condotta dai carabinieri nella giornata di ieri. Adesso torniamo sul Quotinano il Centro e completiamo le notizie sulle pagine di Pescara. Le case sovraffollate nel Mirino, il comune via con multe e sfratti, scattano i rivieti. Ordinanza del sindaco punta a colpire le abitazioni in affitto con un numero di persone oltre i limiti. Ieri i vigili hanno sgomberato un appartamento occupato in via Basento, già liberato alcuni giorni fa. Andiamo avanti, nella pagina di Montesilvano, nuovo allarme, inquinamento del Saline, sotto accusa la vecchia cava. Il tecnico ambientale Milillo segnala un'altra criticità sulle sponde del corso d'acqua. Una delle più grosse centrali di bracconaggio del Tonno Rosso è a Montesilvano. Andiamo a vedere poi le altre notizie. È distrutta una piantagione di marijuana con le corvine oblizze dei carabinieri dopo l'arresto del responsabile del terreno e di quattro complici trinciate. 700 piante. Poi spoltore, campo sportivo caprarese. Dopo i lavori si cerca il gestore. Andiamo a vedere le altre notizie. A Città Sant'Angelo, borse di lavoro, le richieste entro il 15 di novembre. Festa degli animali domani al parco a Montesilvano, nel taglio basso il generale Cerrina Montesilvano. Il comandante della legione carabiniere Abruzzo incontra il sindaco De Martinis. Rapina al centro scommesse a Francavilla. Ci hanno anche ringraziato. Il responsabile del punto SNAI ricostruisce l'assalto di martedì sera da parte di due banditi armati. Presi i soldi, sono fuggiti in meno di un minuto. E la Lega denuncia città senza videosorveglianza. Andiamo avanti. Il sogno del sindaco Di Penne ricostruire il teatro. Intervista a Semproni in vista dell'assemblea dei 40 mesi di governo. Rigopiano, l'ospedale e l'Abrioni da salvare. Nel taglio alto, malore fatale in campagna. Amore a 81 anni a Pianella dopo essersi accasciato a terra. L'uomo è stato raggiunto dalle fiamme. Inutili i soccorsi. Andiamo a vedere poi nel taglio basso. Letto Manoppello in consiglio consegna delle beneverenze. Picle Ball, bottino di medaglie per l'Italia. Notizia che arriva da Tocco da Casauria. Per quanto riguarda la protezione civile a Pianella, la testimonianza di Pirozzi a Castrum 2019. Pirozzi che è stato sindaco di Amatrice. Adesso andiamo avanti con il centro. Le pagine di Chieti. Detenuto arrestato dopo 5 ore di fuga. Si era nascosto in un campo. Giovane colombiano si dilegua dal blindato. Prima di arrivare in tribunale. Poi si complimenta con la polizia e dice siete stati bravi. Noi adesso possiamo andare a vedere anche questo servizio che ricostruisce insomma un po' quanto accaduto ieri a Vasto. Abbiamo diviso il territorio in zona e le abbiamo battute a più riprese. Fin quando nel pomeriggio abbiamo deciso di tornare in via Casetta in quella che era considerata la direzione di fuga del Levaso. Siamo scesi nelle campagne nei rovi circostanti e probabilmente questa azione ha disturbato il Pollutri perché lo stesso lo ci ha dichiarato che era presente si era nascosto in quegli anfratti come ci ha visto si è allontanato però poi ha capito che ormai non aveva più scampo perché nel mentre in via Casetta erano aggiunti ulteriori equipaggi della polizia di Stato. È stato bloccato in quella zona non ha opposto resistenza si è cambiato di abbigliamento e agli operatori inizialmente ha dichiarato di chiamarsi Antonio cercando come dire di evitare l'arresto. La pericolosità sociale del Pollutri è notevole ha precedenti per reati contro la persona contro il patrimonio addirittura tentò di investire due carabinieri quindi penso che oggi la Polizia di Stato in città e a Vasto ha raggiunto un risultato importante e notevole in pochissimo tempo. Avete chiarito le circostanze della fuga? Le circostanze della fuga andranno chiarite presumo con una successiva attività di indagine. Capite che la concitazione nel momento non ci ha permesso di effettuare i relativi accertamenti. Sicuramente sarà innanzitutto la Polizia Penitenziaria a informare la Procura della Repubblica e poi seguiremo gli sviluppi della vicenda. Queste le parole del vicequestore aggiunto del commissariato di Vasto Fabio Capaldo intervistato da Zona Locale noi adesso andiamo avanti con la nostra rassegna stampa restando sempre nelle pagine di Chieti del quotidiano il centro trasporti Chieti si blocca per 24 ore autisti del bus sciopero e corteo e il terminal e in abbandono i 60 dipendenti della Panoramica si fermano lunedì insieme a quelli del servizio extraurbano al capolinea di Viale Gran Sasso una perdita d'acqua provoca infiltrazioni e cedimenti nel parcheggio nel taglio basso Ludopatia 275 nuovi negozi con le puntate rischi shock dallo studio di 5 commercialisti sul gioco d'azzardo nel comprensorio andiamo adesso a vedere le pagine di Chieti sul messaggero in apertura ex direttore assolto l'adannunzio paga le spese legali il giudice del lavoro dà ragione a Filippo Del Vecchio sentenza pilota destinata a fare stato in tutte le altre controversie definite il provvedimento di Ilaria Prozzo riguarda tre processi nati anche da esposti dei vertici dell'università di spalla da Ortona Ripa e Chieti le giornate del FAI con tanti gioielli da scoprire poi tenta di entrare in tribunale con un coltello un uomo di Ortona bloccato dal vigilante l'emergenza lunga serie di precedenti a Palazzo di Giustizia poi il convegno muro dei commercialisti contro il DASPO al congresso del sindacato giovani professionisti dure reazioni all'ipotesi della sanzione nella pagina successiva due carabinieri arrestati a San Salvo ai domiciliari Antonello Carnevale comandante di stazione Giuseppe Mancino l'accusa appropriazione di 1490 euro falsi quattro gli indagati legati a intercettazioni videoambientali coperte da segreto tra questi l'avvocato Clementina De Virgilis e poi evade mentre lo portano in tribunale ripreso si complimenta con gli agenti abbiamo visto il servizio che riguarda la fuga di Luis Davi Pollutri andiamo avanti e andiamo adesso sul centro nelle pagine di Teramo Gran Sasso scagionati i laboratori i PM esperimenti nessuna irregolarità la procura firma la richiesta d'archiviazione per la seconda inchiesta aperta dopo esposti sull'allarme radioattività poi ancora aiuti nel cratere sismico la polemica bloccati i fondi per le imprese il PD punta il dito contro l'aggiunta Marsilio immediata la replica dell'assessore regionale Febbo nel taglio basso bus per l'Ateneo nuove proteste l'Udu gli studenti segnalano corse sovraffollate e mancanti serve un tavolo nella pagina successiva Silvi continuano gli atti vandalici il sindaco userò il pugno duro nella zona sud sono stati abbattuti brilli che delimitano la ciclabile e tranciati alcuni fili elettrici Scordella si tratta di un disegno folle di chi non vede di buon occhio l'amministrazione comunale di spalla ad Atri discarica l'opposizione rivendica i propri meriti per quanto riguarda la discarica di Santa Lucia nell'evitato ampliamento poi torna potabile l'acqua del santuario a Giulianova il priore conto di riaprire i rubinetti l'8 dicembre un fedele offre un sistema anti impurità andiamo a vedere le pagine di Teramo sul messaggero Andrea Core alla cultura rimpasto solo rimandato il neoassessore a 28 anni proverò a dare nuovo slancio a questo settore il sindaco in seguito ragioneremo su come allargare la maggioranza il democratico Flavio Bartolini è contrario ad allargare ancora la giunta meglio i consiglieri delegati poi commercio in crisi nera vogliamo contare di più i commercianti chiedono misure che possano rilanciare il commercio in città e poi nel taglio basso truffa ex comandante dell'arma sotto processo nella pagina della provincia atti senza firma urbanistica nel caos il dirigente Pirocchi in attesa del suo successore avrebbe paralizzato le pratiche dell'ufficio protestano due assessori si sta espletando il concorso le voci danno in pol Gramenzi via alle demolizioni il bar gelateria Marechiaro ricorre al Tarre per quanto riguarda il PD Renzo Di Sabatino il commissario del PD di Giulianova poi a Roseto ripetitore 5G critiche al comune per il nulla osta l'ex sindaco Pavone è mancata la sensibilità politica rabbia sui social solo qui non si tiene conto della salute lavanderia industriale ampliamento subordinato al parere di un ingegnere annereto abbellante processato due volte per rapina e assolto andiamo a vedere le pagine di Teramo anche sulla città ripartiamo dalla sanità Marsilio risponde all'appello dei medici il presidente della regione all'incontro della NAO saremo al vostro fianco per colmare le carenze Teramo il nuovo assessore alla cultura è Andrea Core il vuoto in giunta lasciato da Ponziani colmato in appena 48 ore con una riunione della lista del sindaco D'amico D'amico rilancia la federazione fra Ateneo IZS e Braga per quanto riguarda le tre istituzioni Teramane poi arrestato il ladro delle mamme all'asilo per spaccate ruberie approfittava delle auto lasciate in sosta per accompagnare i bimbi a scuola ambiente video requiem per il ghiacciaio del Calderone violinista in alta quota e striscione di lega ambiente per lanciare l'allarme sui cambiamenti climatici e sul Gran Sasso escursionista in difficoltà soccorso con l'elicottero sul Monte Prena Affrontare i rischi assieme alla protezione civile presentata ieri in provincia la campagna che si svolgerà anche nel Teramano il prossimo fine settimana Alba investito un bambino in bicicletta un dicenne travolto da un auto lungo via olimpica ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Teramo ha riportato un trauma cranico e diversi traumi alle braccia e alle gambe Renzo Di Sabatino commissario del PD di Giulianova l'ex presidente della provincia nominato alla guida dell'Unione Comunale per volere di Fina e di Stefano già commissario del partito regionale di Sabatino e ora la guida dell'Unione Giuliese l'intervista a Verticelli il porto del futuro tra bellezza e pulizia il presidente traccia gli obiettivi per lo Scalo Giuliese un luogo di tutti i cittadini lavora e l'imboccatura entro questo mese ripartirà il cantiere per la riparazione della Diga Nord guardia costiera rapporto ottimo il comandante Bernetti è un uomo di cultura aperto all'innovazione e alla discussione estorsione e botte la madre difende suo figlio la presunta vittima in aula ritratta parzialmente quanto denunciato nei confronti di un 54enne di Roseto andiamo ancora avanti vandali scatenati lo abbiamo visto lungo le strade di Silvi il centro-sinistra dichiarazioni gravissime del sindaco secondo cui ci sarebbe un piano contro l'amministrazione torniamo sul quotidiano il centro le pagine dell'Aquila l'inchiesta sul Mona il maxi sequestro sospeso l'economo trovato con la droga provvedimento del comune dopo l'arresto oggi l'interrogatore in carcere si sospetta il coinvolgimento di altre persone di Pietro si difende sono stato costretto a essere il terminale della consegna del carico non sono stato mai né uno spacciatore né un consumatore di droga poi i medici assumere gli specializzanti carenze di personale il presidente Marsilio al fianco della categoria nel convegno a Nao all'Aquila bici di taccone al ghisallo dono al museo del ciclismo nel ricordo del giro di Lombardia notizie che arriva da Avezzano poi il decennale del sisma e la provocazione sul Mona vuole il festival degli incontri gli ambientalisti mazzotte e verrocchi nodi biondi facciamolo nella città di Ovidio Costanzi del PD all'Aquila niente spazi poi andiamo a vedere le pagine dell'Aquila sul messaggero la festa della montagna divide biondi inviti al boicottaggio il sindaco chi trama contro questo evento deve essere considerato nemico di tutta la città il consigliere D'Angelo abbiamo l'ambizione di far diventare l'iniziativa prima del centro Italia poi dispositivi antiabbandono dal comune arrivano incentivi per comprare i seggiolini appunto che avvisano in caso di abbandono del minore in auto Dante Labs test genetici avanzati nel capoluogo e poi troppo farmaco al bimbo medico assolto questo è il processo nell'Aquilano poi ancora comune due piani per le scuole ora è tutto da rifare sul tavolo le progettazioni degli assessori Bignotti e Daniele adesso l'impegno è quello di arrivare a un elaborato unitario restyling a San Giuliano parcheggio essenzio unici per il recupero della città e noi adesso siamo arrivati alle pagine di sport che apriamo con l'Abruzzo Sport del messaggero parlando chiaramente di serie B c'è il derby Zauri Blinda il Pescara il tecnico ieri ha provato a porte chiuse la nuova formazione al Poggio degli Olivi ad Ascoli con la difesa tre e in tandem Galano Brunori niente biglietti al Del Duca poi Macin Sebastiani e il club deferiti alla procura alla cessione di Macin dal Pescara al Parma dello scorso gennaio nel mirino della procura federale poi nel taglio basso Roseto la faccia tosta di Giordano è reduce da un'estate ricca di trionfi suona la carica mi appello ai tifosi abbiamo bisogno del loro sostegno ma torniamo alla serie B al Pescara domani il derby estro e gol il Pescara si aggrappa a Galano la punta tre reti finora scalpita per lasciare il segno ad Ascoli nel nuovo 3-5-1-1 l'ex Foggia vuole spezzare il digiuno che dura da tre partite maniera favorito su Brunori in difesa ci sarà Campagnaro nel taglio basso Caso Macin arrivano i deferimenti giocatore Sebastiani e dirigente Falconeo saranno giudicati dal Tribunale federale per quanto riguarda invece l'anticipo il Pisa di D'Angelo va a K.O. Iemelo gol Perugia in testa la sfida tra Pescaresi va a Oddo partita finita 1-0 proseguiamo con lo sport adesso andiamo in Serie C in campo alle 20.45 Tedino Teramo basta figuracce e battiamo il Rieti il diavolo a caccia di una vittoria per scacciare la crisi l'allenatore conferma Mungo e rilancia Magnaghi dal primo minuto prima di ascoltare le parole di Tedino completiamo questa pagina il ritorno di Paris ad Avezzano è come salire su una barca col mare mosso il presidente di nuovo in sella del club biancoverde poi sempre per quanto riguarda la Serie C Teramo obbligato a battere il Rieti siamo sul messaggero questa sera il diavolo al Bonolis non può commettere più errori Tedino voglio un gruppo che dia il massimo in campo Bombaggi sarà titolare e andiamo a vedere anche il titolo della città proprio sulla partita di questa sera e poi ascolteremo il servizio assalto a Rieti ma nessuna rivoluzione Teramo in campo stasera alle 20.45 al Bonolis Tedino verso la conferma dei titolari vincere ogni costo chiusa definitivamente la pagina Monopoli il diavolo deve tornare a correre gioca Mungo dal primo minuto nel Rieti non ci sarà Giugliebre che ha un problema al ginocchio noi adesso andiamo ad ascoltare il servizio di Jacopo Forcella con le parole dell'allenatore Tedino vincere ad ogni costo non ha alternative il Teramo domani sera contro il Rieti Fanalino di Coda a un solo punto in classifica Teramo che viene dalla settimana forse più difficile di questa nuova gestione della gestione Tedino dopo la scoppola di Monopoli allora per l'allenatore Biancorosso sono due gli ingredienti per vincere domani sera impetto e assalto come dice in conferenza stampa io vorrei vedere 100 minuti dei Tupamaros che vanno alla ricerca della palla anche in maniera disordinata di gente che va a mangiare l'erba questo voglio vedere in maniera organizzata in maniera ordinata in maniera equilibrata ma impetto e assalto domani come Sturbo undranghi insegna deve essere all'altezza della situazione non possiamo fallire sotto questo aspetto qui poi ripeto le prestazioni i risultati sono figlie siccome è un gioco ci sono tantissime varianti ma domani dobbiamo essere questi è solo da vincere punto non è vero che si vince con le buone o con le cattive si vince secondo me spesso avendo un'organizzazione e cercando di giocare un certo tipo di calcio se delle volte non ci si riesce perché la brevuda dell'avversario è contrastante è molto è molto forte bisogna cercare in altre maniere di fare tre punti perché per noi in questo momento è importante ma non è importante solo per la classifica è importante per tutta una serie di vicissitudini scelte di formazione ancora tutte da svelare è chiaro che ci sarà qualche cambiamento Tedino ha parlato in conferenza stampa di Florio di Costa Ferreira che sembra essere quasi al 100% ma soprattutto di Viero che potrebbe prendere è impredicato di prendere il posto di Arrigoni al centro del campo ho visto che stanno scalpitando dei giocatori da fuori ed è così c'è Ivari Florio Costa Ferreira piuttosto che Viero Viero è un giocatore molto forte che ha in questo momento avuto una trasformazione da mezzala dove fa più fatica per il passo che ha a playmaker e nel giocare playmaker deve migliorare sicuramente la fase di non possesso perché non sa ancora posizionarsi perché ancora deve migliorare questo tipo di rapporto quando la palla c'è negli avversari è un giocatore futuribile che sicuramente ci darà una grossissima mano però in questo momento è un'alternativa o comunque un giocatore che può togliere il posto da Arrigoni quindi non in altri ruoli Mungo gioca il primo a essere dispiaciuto per prestazioni non all'altezza della situazione è Mimmo però in questo momento quando una persona è in difficoltà se trova calore se trova braccia se trova pacche sulle spalle probabilmente Mungo è il calcio lo ripeto e avrà una reazione importante sentendosi del calore addosso processo di crescita ancora in atto in Casa Teramo in una settimana quella dei tre impegni perché poi dopo l'incontro con il Rieti ci sarà anche recupero con la Sicula Leonzio prima della trasferta di domenica prossima sul campo del Potenza Telino dice il processo sapevo che era mediamente lungo pensavo speravo tramite il lavoro di anticiparlo quanto prima andiamo a conoscere anche gli avversari del Teramo sempre sulla città un punto è un allenatore di missionario quanti problemi a Rieti a poche ore dalla sfida con il Teramo arriva l'addio di Alberto Mariani l'ex Virtus Lanciano Aquilanti guida la difesa laziale e già che ci siamo completiamo le pagine di sport della città con il basket Roseto si riparte inizia il cammino in A2 stasera l'anticipo tra Orania Milano e Sansevero domani gli squali all'esordio contro Udine torniamo adesso sul messaggero completiamo anche qui la pagina di sport con la serie D Pineto verso Notaresco può contare su Speranza si avvicina il derby tra le Teramane Epifani a due assenti poi l'Aquila oggi in trasferta contro New Villa Mattoni mister Cappellacci non esistono due volti diversi siamo in promozione poi ancora la D con Avezzano che ritrova il patron Paris alla guida della società adesso comincia la salita dice Paris e poi il volley si ecoteste contro Fano per capire quanto vale Ortona ad Alba lanci un ciclo che sarà molto utile andiamo a completare anche le pagine sul centro il basket di A2 Pieric tre big poi c'è anche Roseto basket di A2 domani debutto contro Udine il capitano Carica Friulani Verone Forlì favoriti sarà l'anno di Nicolic Biancazzurri in campo alle 18 Sharks nel girone est con le neopromosse Sansevero e Caserta al posto dell'Amatori poi Cisilver Scintilla e Spettacolo in Paglio c'è una promozione oggi si parte con gli anticipi nella pagina successiva Serie D via il 3 novembre 32 squadre divise in tre gironi il 12 ottobre le partite della Coppa Abruzzo che sarà segnata a gennaio in campo la Libertas Stanazzo composta dai detenuti del carcere di Lanciano e poi la Colormax crolla stasera tocca l'acqua e sapone per quanto riguarda il calcio a 5 nell'anticipo della quarta giornata la formazione di Palusci va in vantaggio e dopo viene sovrastata dall'Eboli in A2 la Tombesi Ortona di scena a Ciampino oggi inizia anche la Serie B noi adesso ci fermiamo con la nostra rassegna stampa io vi ringrazio come sempre per essere stati con noi mattino 6 tornerà lunedì alle ore 8 a me non resta che augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi e un buon weekend e un buon weekend Buongiorno buon sabato 5 di ottobre ben trovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali poi andremo ad aprire anche i principali quotidiani italiani il centro edizione di Pescara apre con una notizia che però arriva dalla provincia di Chieti scatta l'arresto per due carabinieri San Salvo uno è comandante di stazione tra i reati c'è anche il peculato poi restando in tema forze dell'ordine purtroppo una tragica notizia che arriva da Trieste sangue e rabbia sparatoria in questura i ladri uccidono due agenti di polizia le vittime Pierluigi Rotta e Matteo De Menego poi andiamo a vedere a centropagina nella fotonotizia la cronaca schianto sul ponte del Tavo giovane ricoverato in rianimazione paura a Colle Corvino un 21enne in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale sul ponte sul fiume Tavo la sua auto una Renault Clio ha tamponato un furgoncino e il giovane è stato operato all'ospedale di Pescara e poi ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata andiamo a vedere poi in Abruzzo i fondi all'agricoltura produttori di vino bando da 3 milioni di euro per sostenere il settore sono messi a disposizione dalla regione con un bando appena pubblicato relativo alla campagna 2019-2020 a darne notizie è stato il vicepresidente della giunta regionale con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente la scadenza per partecipare al bando pubblicato ieri è fissata il 15 di novembre prossimo poi esplode il caso trasporti tua giuliante chiede l'ispezione dei conti così il presidente leghista dell'azienda unica del trasporto regionale chiede una commissione d'inchiesta proprio sulla gestione del trasporto pubblico durante però la giunta d'Alfonso andiamo a vedere poi le altre notizie nelle cronache a Pescara abitazioni sovraffollate scattano multe e sfratti stoppa le case sovraffollate con un numero di persone al di là dei limiti di legge ora scatteranno le sanzioni poi Asler rinforzato il servizio per la scelta del medico dopo le lunghe file che gli utenti hanno dovuto patire nelle scorse settimane a Francavilla buonasera e grazie banditi cortesi dopo la rapina poi ancora la vicenda giudiziaria relativa a Pescara a Porto la procura fa ricorso appello di Serpi contro l'assoluzione di D'Alfonso Milia Dezio Di Biase e Ruffini andiamo a vedere il taglio basso con il calcio di Serie B in primo piano Pescara di Ascoli con Cristian Galano che dovrà caricarsi il Delfino sulle spalle nel nuovo modulo 3-5-1-1 il fantasista aggirà dietro l'unica punta che dovrebbe essere Riccardo Maniero in leggero vantaggio su Brunori vi ricordo a questo proposito l'appuntamento con la nostra Domenica dello Sport che seguirà tutti i campionati a partire dalla Serie B e non solo dunque vi invito domani pomeriggio a restare sintonizzati sulla nostra rete per Diretta Stadio e poi Abruzzo del Pallone torniamo sul centro e troviamo anche una ricorrenza particolare per un simbolo del calcio pescarese Bruno Nobili 70 candeline i ricordi del sinistro magico andiamo avanti con il centro edizione di Chieti il titolo lo abbiamo già visto la notizia è sempre la stessa scatta l'arresto per due carabinieri a San Salvo poi andiamo a vedere il centro pagina con la fotonotizia alla Marcia della Pace serpentone di colori con alunni ed insegnanti San Salvo nella ricorrenza di San Francesco sedicesima edizione della Marcia della Pace ci spostiamo nello spazio delle cronache di spalla autisti dei bus in sciopero lunedì nero per i trasporti sciopero e corteo per gli autisti della panoramica turni massacranti e stipendi più bassi all'origine della protesta ad Ortona porchetta per il mercato tra sporcizia e ruggine poi ancora a Lanciano assalto in villa sentenza in bilico decide la Cassazione per quanto riguarda il procedimento penale per la rapina ai coniugi martelli poi detenuto fugge preso dopo cinque ore vasto si dilegua dal blindato davanti al tribunale poi si complimenta con la polizia questo è accaduto nella mattina e pomeriggio di ieri poi nel taglio basso chiede il personaggio storico Chiarini esploratore dimenticato morì esattamente 140 anni fa in Africa in circostanze misteriose in pugilato cavallucci battuto cede il titolo dei pesi welter poi il compleanno di Bruno Nobili abbiamo già visto anche in precedenza andiamo sull'edizione terramana del centro titolo sempre uguale sulla notizia che arriva da San Salvo dell'arresto di due carabinieri uno è il comandante della stazione poi andiamo a vedere nello spazio delle cronache di spalla Gran Sasso la procura esperimenti regolari nei laboratori i PM di Teramo chiedono l'archiviazione dell'inchiesta bis sull'acqua del Gran Sasso quella sugli esperimenti poi a Silvi nuovi atti di vandalismo il sindaco e un piano così scordella poi a Giulianova a dicembre torna potabile l'acqua del santuario andiamo a vedere il centro pagina Teramo per battere la crisi i commercianti del centro chiedono più parcheggi e bus navetta poi scusate a centro pagina furti in serie nelle auto viene arrestato derubava le mamme davanti agli asili mentre andavano a riprendere i propri bambini nel taglio basso il calcio di serie C con il Teramo il Teramo non può sbagliare Biancorossi chiamati alla riscossa stasera contro il Rieti il basket di A2 Pieric carica il roseto tre big poi ci siamo noi andiamo a vedere adesso l'edizione aquilana così completiamo la lettura delle prime pagine del quotidiano il centro andiamo direttamente nello spazio delle cronache Power Corp atto finale bocciata la centrale il Tar ha respinto il ricorso di Power Corp e Sadam contro la regione e il comune e di fatto ha messo la parola fine alla centrale a Sulmona l'economo arrestato sospeso dal comune ancora all'Aquila Sulmona vuole ospitare il festival degli incontri ricorderete le polemiche proprio sul festival degli incontri sulla partecipazione di alcune personalità alcuni personaggi della cultura italiana tra cui Saviano poi l'isola pedonale non piace più siamo all'Aquila i commercianti ora chiedono al comune di revocare il divieto alle auto a centropagina cerimonia tagliacozzo con delegazione di Celano lampada accesa nel segno di San Francesco e del beato Tommaso nel taglio basso presentata la stagione ad Avezzano del Teatro dei Marsi rock e opera in cartellone oxa e bennato nel cartellone di armonia novissima per i dilettanti la terza categoria dell'Aquila dal 13 di ottobre troverete nel giornale tutte le sfide ci spostiamo ora cambiando testata sulla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero ecco qui l'apertura arrestati due carabinieri e ai domiciliari il comandante della caserma Carnevale e un maresciallo si sarebbero appropriati di 1490 euro in banconote false indagata anche una avvocatessa poi andiamo a vedere all'Aquila scuole sicure due piani del comune per un solo progetto nel centro pagina la vicenda Pescara Porto il PM impugna l'assoluzione tra gli imputati prosciolti anche l'ex governatore D'Alfonso poi il rapinatore evade dal tribunale subito in manette vasto Luis David Pollutri inganna gli agenti fuga durante il trasferimento per un processo sanità malata Masci bloccato in ascensore nell'ospedale è accaduto ieri mentre andava a far visita ispettiva nel reparto di geriatria andiamo a vedere l'articolo di spalla dalle Maldive all'Himalaya Befa Web Visit Abruzzo è stato scalpore tra gli abruzzesi ma anche tra i media nazionali l'utilizzo di due foto relativa alle Maldive agli altipiani montuosi dall'atmosfera nepalese per promuovere l'offerta turistica abruzzese l'ironia dopo gli spot esotici l'assessore Febbo dice sono emozionali nel taglio basso a Giulianova atti senza firma caos urbanistica invece sotto la testata le altre notizie il caso l'aquila si divide sul festival della montagna biondi infuriato questione di cuore catena di solidarietà per Damian l'uomo che vive con un bastardino e poi la serie B Zauri blinde il suo pescara macine Sebastiani deferiti allenamento svolto a porte chiuse ieri in vista del derby contro l'ascoli la procura federale intanto ha aperto un'inchiesta per conflitto di interessi ci spostiamo ora sulla prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo apre così nominato l'assessore alla cultura dopo le dimissioni di Ponziani conclusa la prima fase della verifica Andrea Core al posto appunto di Ponziani per Podemos poi nel taglio alto Teramo arrestato il ladro che derubava le auto delle mamme agli asili a centro pagina la manifestazione sul Gran Sasso come sul Monte Bianco Requiem per il ghiacciaio del Calderone poi ancora risolto il caso dei Medici del 118 abbonamenti al parcheggio del Mazzini riattivati in poche ore per la politica di Zapatino e il commissario del PD Giuliese i Renziani vivissimi nel Teramano poi Verticelli che dice il futuro del porto di Giulianova tra bellezza e pulizia poi ad Albadriati ha investito un ragazzino in bicicletta nel taglio basso l'idea l'ex rettore d'amico rilancia la fusione fra Università di Teramo IZS e Braga e poi per la Serie C Diavolo stasera in campo contro Rieti senza rivoluzioni per cercare di dimenticare la sconfitta di Monopoli adesso lasciamo le prime pagine regionali andiamo ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali partiamo dal Corriere della Sera che apre con la politica Conte avvertimento a Renzi parla il premier se ogni giorno marca il suo spazio non andiamo avanti non sono sereno tensioni nella maggioranza sulla manovra sondaggio il 55% approva le misure ma nel taglio alto troviamo la tragedia di Trieste ruba la pistola in questura spara e uccide due poliziotti le vittime avevano 34 e 31 anni Pierluigi Rotta e Matteo De Menego invece l'editoriale di questa mattina di Alberto Alesina ci porta in America estremismi quando si ammala l'America una riflessione anche e soprattutto sulla questione impeachment per il presidente Trump sulla Repubblica adesso il titolo di apertura morire nelle stanze della questura a Trieste sparatoria negli uffici della polizia due giovani agenti ammazzati l'assassino è un immigrato regolare dominicano con problemi psichici disarmati uccisi dall'uomo fermato per furto e poi bloccato questi poi gli approfondimenti su Repubblica il caso fondine giubbotti noi in servizio senza sicurezza queste appunto questi gli approfondimenti sulla storia e anche sulla situazione che vivono gli agenti di polizia il sondaggio Demos il governo scende ma Conte piace la prima rilevazione un mese dopo lega più lega giù 5 stelle riprese il PD soffre no al voto ai sedicenni questo pensano gli italiani secondo questo sondaggio e poi io il prof scomparso e il Russiagate parla la super test e la spy story che cambierà i nostri servizi Simona Mangiante e George Papadopoulos ex consigliere di Trump li vedete nella fotografia andiamo sulla stampa Italia attenti alla Cina il partito comunista può usare i vostri dati Washington a Roma rischi di interferenze russe ponete fine ai voli dei Pasdaran parla il segretario di stato americano Pompeo sui dazzi parleremo con i paesi dell'Unione europea oggi il concistoro la contro la controffensiva di Papa Francesco 13 nuovi cardinali suoi fedelissimi e poi oltre la dottrina la chiesa sfida i dissidenti e la riflessione di Gian Enrico Rusconi poi andiamo a vedere il centropagina a Trieste ladro di scooter uccide due poliziotti in questura qui vedete la foto dei colleghi abbracciati in lutto per quanto accaduto davvero incredibile poi sul fatto quotidiano allarme per la sentenza di Strasburgo ora i boss sperano di uscire ricorso del governo contro la condanna per i permessi negati ai mafiosi ergastolani il PM Nino Di Matteo i mafiosi temono l'ergastolo stativo perché se possono uscire comandano ancora promemoria sulle stragi i graviano a Milano e quel provino nei pulcini del Milano grazie a Marcello Dell'Utri poi nel taglio alto cibo a domicilio migliorato il Jobs Act accordo di governo ecco le tutele per i rider come per il lavoro subordinato i guastatori partiti terrorizzati dal blocco prescrizione tutti contro Bonafede PD e Renziani parlano come Salvini e compagni adesso sul sole 24 ore in apertura il ministro Boccia avanti con l'autonomia ma prima la legge cornice così Francesco Boccia il provvedimento dovrà fissare livelli essenziali e fa bisogni standard tutte le regioni dovranno rispettare la norma generale non è escluso un decreto il Made in Italy marchio di qualità per i ristoranti italiani all'estero questo allo studio per evitare il cosiddetto Italian Sounding poi i conti a tassi negativi in Germania e Svizzera sono già una realtà effetto BCE in banca poi IVA stretta per la flat tax fino a 65 mila euro verso la manovra il governo studia vincoli e paletti per frenare la corsa al regime forfettario scontro Renziconte sul cugno fiscale il premier beneficio di 40 euro al mese andiamo sul manifesto il titolo sulla fotografia come di consueto lavaggio a secco a Roma va in scena il funerale delle lavatrici Whirlpool dopo l'annuncio della cessione della sede di Napoli da parte della multinazionale statunitense lavoratori in piazza per lo sciopero nazionale timore di chiusura anche per altri stabilimenti l'avvertenza arriva a Palazzo Chigi nel taglio alto giro di vite sui richiedenti asilo il governo giallorosso vara una lista di 13 paesi sicuri ci spostiamo su avvenire il quotidiano cattolico apre così il viaggio del boss il trafficante libico di uomini via dopo Mineo fu portato anche a Pozzallo il sottosegretario all'interno Sibiglia non si fanno scambi con persone simili la trattativa segreta con uno dei capi dei miliziani presentata un'interpellanza alla Camera poi andiamo a vedere quello che è accaduto a Trieste ruba un'arma e spara poi fermato due agenti uccisi dal rapinatore a centropagina l'intervista a Conte Renzi non esageri PD 5 Stelle progetto politico il premier rischio crisi se Italia viva forza da Assisi un piano per i senza tetto sul messaggero ora il titolo di apertura un paracadute per l'Italia il premier ammette soluzione complicata ma Delta apre alle condizioni di Atlantia Palazzo Chigi allunga i tempi sulle concessioni decisione alla fine dell'iter giudiziario questo per quanto riguarda invece le autostrade battaglia sul cuneo fiscale manovra primo strappo con Terenzi parte la competition nella maggioranza il decreto a case quattro mesi di maio rimpatri veloci per i migranti dubbi del Viminale sulla lista dei 13 paesi sicuri le due linee la differenza tra i proclami e la realtà sugli sbarchi e la riflessione di Carlo Nordio sulla questione immigrati poi sfila la pistola in questura uccide due agenti tragedia a Trieste fermati due rapinatori dominicani il cordoglio di Mattarella nel taglio basso la Brexit ora Johnson pensa al rinvio documento dell'esecutivo slittamento senza accordo il 19 e poi per quanto riguarda invece Roma discarica tempo per salvare Roma le condizioni di coste della regione alla raggi vi ricordo che una parte dei rifiuti della capitale arrivano anche nella nostra regione nella discarica Aciam nella Marsica poi andiamo sul tempo in apertura gli ipocriti piangono due poliziotti lacrime di coccodrillo a Trieste due giovani agenti uccisi da balordi appena fermati piogge di lacrime dal palazzo ma fino a poco prima li stavano mettendo sotto accusa poi ancora posti e indotto bomba l'Italia sulla capitale se salta il salvataggio a rischio 11.000 lavoratori e 300 milioni di giro d'affari palazzo chigi prende tempo andiamo sulla verità il pasticcio brutto con gli 007 quei segreti che Conte nasconde agli italiani il capo dei due governi si è sempre tenuto la delega ai servizi e senza dire nulla a nessuno ha gettato i nostri agenti nello scontro tra Trump e democratici sul Russia Gate ora deve spiegare il premier trema anche per lo scandalo vaticano il ruolo dell'avvocato Alpa siamo su libero il sussidio voluto da Di Maio è un buco come prendere il reddito a sbafo i percettori della rendita possono non lavorare basta non rispondere al telefono comunicare la mail sbagliata il tribunale garantisce l'assegno anche ai rifugiati privi di documentazione nel taglio alto poi la questione di cronaca i migrati uccidono due agenti coppia di domenicani spara in questura a Trieste gli stranieri delinquono di più lo dice il prefetto Gabrielli così libero andiamo sul secolo.it compagne mute la Sant'Anché non accetta le scuse ma vuole le dimissioni di Fioramonti dalla sinistra neppure una parola di solidarietà in primo piano legge Meloni l'Aquila c'è mentre il governo dorme Salvini contro la Raggi si tiende sotto il Campidoglio e poi Di Maio fa l'antiboldrini ora stretta sui rimpatri ci spostiamo adesso sui quotidiani sportivi nazionali così concludiamo questa prima parte della nostra rassegna stampa la gazzetta dello sport apre con l'Inter tutti Conte giocando con il cognome dell'allenatore nero azzurro per il tecnico mi farei ammazzare Inter alla pari contro la Juve il centrocampista Barcellona ha fatto vedere chi siamo scudetto il vino è pronto queste le parole di Barella alla gazzetta dello sport poi sempre sulla super sfida di domani c'è Ronaldo a San Siro ed il record d'incasso 6 milioni e mezzo per questa super sfida Lukaku sta recuperando oggi l'ultimo test sarà titolare solo se al 100% andiamo a vedere poi le altre notizie di Spalla Marassi 20 e 45 contro il Genoa una notte da brividi Giampasi Giampano Genova ultima spiaggia con l'allenatore del Milan rischia anche Andrea Zoli una partita difficile per le due squadre e soprattutto per i due allenatori poi la corte sportiva d'appello nazionale Mazzarri Frustalupi tolte le squalifiche Cairo una novità fa giurisprudenza il presidente del Torino recuperare Walter come riavere un top player poi visti da Veltroni scusate gioca a Montella Fiorentina mia sei sbocciata andiamo a vedere poi il Corriere dello Sport in apertura il derby mondiale quello fra Juve e Inter anzi tra Inter e Juve fa cadere record su record Meazza esaurito 76 mila spettatori primato d'incasso circa 6 milioni e mezzo il 20% dei biglietti acquistato all'estero sugli spalti oltre 100 nazionalità rappresentate 200 i paesi collegati per la partita nel taglio alto il fantasma di Rino Gattuso ha rifiutato il Genoa perché è pronto a tornare al Milan ma finché c'è Maldini e poi Zagnolo perdonato torna in nazionale Mancini lo richiama in azzurro per la sfida alla Grecia Fonseca è pronto a riaffidargli la Roma così Nicolò è riuscito a convincerli Milinkovic Lazio c'è la firma fino al 2024 definito in segreto il nuovo contratto è stato allungato di un'altra stagione 3 milioni più bonus per blindare Sergei poi Tamberi Amaro Boom Staffetta Mondiali di Atletica la 4% in finale e a Tokyo per quanto riguarda la B Perugia prima battuto il Pisa il gol di Iemmello decide l'anticipo 1-0 Oddo aggancia Lempoli in vetta alla classifica andiamo su Tutto Sport Agnelli giù le mani da Conte il titolo di apertura i tifosi vogliono togliere la stella dedicata al tecnico allo stadium il presidente si oppone i suoi successi in bianco nero non si cancellano poi Mazzarri doppio toro per il Napoli il tecnico che sarà in panchina prepara due sistemi di gioco ecco quali torna in signe nel Napoli nel taglio alto si salvi chi può oggi Genoa Milan e Verona Sampa Andrea Azzoli Giampaolo e Di Francesco si giocano il posto in 90 minuti nel taglio bazzo paura Marquez non respiravo più questo ha raccontato il pilota della Honda caduta terrificante nelle prove libere in Thailandia in ospedale poi il ritorno in pista non è stato fortunatamente nulla di grave rivoluzione nuoto via alla Champions a Indianapolis scatta la nuova competizione a squadra e la Pellegrini leader dei Centurions questo per quanto riguarda anche i quotidiani sportivi nazionali adesso facciamo il nostro break pubblicitario poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa prima però andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per le prossime ore a tra poco